JTJ, misteria d'Italia, mister bello di Canavera, c'è una stella di vera, tra le luci e i colori di questa città, questa sera un po' speciale, tra sorrisi e dannevi. Lungo questa passerella, che ti condurrà la mia, la più bella, la più bella d'Italia. Amici telespettatori, è già pronta per voi la numero 8, Carmela Langella, lei ha 16 anni e proviene da Torre del Greco, musica! Ed ora ha una bellezza mediterranea, eccola, Bruna, lei è Nancy Paguano, 15enne di Torre Annunziata. Ed ora è la volta della Miss con il numero 10, lei è Jessica Giulianelli, 14enne e partenopea DOC. Ed è pronta per voi Giulia Daniele. Lei ha 16 anni e viene da Grumo, Nevano, eccola in passerella. Ed ora per accedere alla finale nazionale del concorso Miss e Mister, Bella d'Italia in passerella, c'è la sedicenne, Caracoppola da Casal Nuovo. Amici telespettatori, Paola Cristiano, 18 anni, da San Giuseppe, Vesuviano. E ancora San Giuseppe, Vesuviano con Maria Cristiano, 27enne, bellezza mediterranea per voi. E siamo all'epilogo di questa passerella con la splendida del San Martino. 17enne, 17enne da Pompei. Bella d'Italia, la passerella finale, tutte insieme in primo piano per voi. E pastille. Bella d'Italia. E sulle delle cose, senza penserella. E sulle delle cose? Perché i Bologna di giocare. E sulle delle cose merengono vivere. Sulle delle cose cose WHAT. La szy che mi sono. Lossi glionale. L'u практически per loro è. L'u proveeva il sottere. La rispettazione è un giorno la. M пять è. Llorando se cuenta che un dia me hizo llorar Llorando starai, ricordando il amor che un dia non supo cuidare Llorando starai, ricordando il amor che un dia non supo cuidare A la regolazione vai star con me